Ciao a tutti amici Ciao a tutti Benvenuti nel nostro primo video di presentazione qua sul canale Io sono Chiara Io Diego Ho 29 anni Io ho 21 in più diciamo 40 Ne fa quasi 41 Siamo sinceri In realtà ne ho 40 e 3 mesi Però per lei Ne fa quasi 41 Viviamo a Milano E stiamo insieme da 10 lunghi anni Infatti direi che ci conosciamo abbastanza bene ormai E come mai il nome di questo canale Coppia Fitness e Avventura Cioè coppia direi che Come mai Coppia direi che è abbastanza intuibile Stiamo in due Viviamo insieme Viviamo insieme Viviamo insieme Quindi E fino a coppia E fino a coppia Poi Fitness La parola è sempre Io non parlo Me ne vado direttamente Fitness perché No però non è vero Possiamo parlare insieme sia del fitness che dell'avventura Fitness perché vabbè io sono Due anni fa diciamo che ho coronato uno tra i miei più grandi sogni che è quello di diventare personal trainer Ed entrambi siamo appassionati di palestra fitness allenamento e attività fisica Quindi direi che tutto il mondo della palestra e dell'allenamento verrà trattato in questo canale Infatti qua vediamo la figura più tecnica da manuale proprio con tutta la terminologia proprio accademica E di qua invece la vecchia scuola di chi a 16 anni ha cominciato comunque ad allenarsi in palestra E' un po' legato a vecchie routine, vecchi concerti, vecchie meteorologie Però comunque con degli aggiornamenti Quindi quello che infatti vedrete anche è l'insieme di questi due mondi Poi se da un lato lo è il fitness dall'altro lato c'è l'avventura E quindi che cosa vedrete? E qui sudentro io, anche lei chiaramente Cioè avventura perché fa solo due avventure, a me non mi vedete L'avventura diciamo che è molto ampio come concetto quello di avventura Perché? Perché l'avventura la vedrete associata a che cosa? A che cosa? A che cosa? Avventura a 360 gradi quindi ci vedrete immersi nella natura Andare a fare tre cose A decini, già lo so mi dici Poi io faccio il fitness dell'avventura e poi vabbè Parla lui, microfono, vai! Allora perché avventura? Perché? Perché andremo a fare comunque una serie di avventure appunto collegate a viaggi che faremo in futuro Viaggi associati poi a sport, paesaggi stupendi e da lì comunque l'avventura intesa a 360 gradi Quindi non solo la cosa che andremo a fare ma anche la preparazione a quel viaggio Qualche piccola nozione legata all'ambiente in cui ci troveremo E effettivamente che cosa andremo a vedere, a fare Basta Quindi lo scopo di questo canale qual è? Quindi è quello di aiutarli per cioè Prima intrattenervi, farvi ridere perché siamo una coppia unica nel nostro genere Infatti cioè direi che ci prendiamo abbastanza in giro Basta guardarla per cinque minuti e fidatevi che tra gaff o altro vi farà sicuramente ridere Vabbè quindi siamo una bella coppia che scoppia diciamo Vi faremo divertire Però a parte questo c'è lo scopo è quello proprio di raccontarvi come è possibile riuscire a mantenere uno stile di vita sano, attivo All'insegna proprio del benessere Dal punto di vista dell'allenamento, dello stare bene con il proprio corpo Sia allenandosi in palestra oppure ovunque vi troviate Quindi a casa, in spiaggia, al mare, piuttosto che al parco Qualsiasi posto Dall'altro lato anche quando andate in vacanza Vi faremo vedere come noi affrontiamo le nostre vacanze un po' più avventurose Quindi dall'andare a fare un cammino, a fare trekking, a fare qualsiasi escursione Piuttosto che altre avventure un po' più articolari Sempre all'insegna del benessere e lo stare bene Esatto, avventure giornaliere o anche più giorni Quindi il vedere anche un po' che cosa comporta E vi assicuro che abbiamo già in fase di editing un paio di avventure veramente eccessionali E quindi vi faremo vedere anche come è possibile affrontare queste anche sfide con voi stessi Sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista psicologico Ovviamente per avere uno stile di vita sano, attivo all'insegna del benessere La base è un po' una corretta e sana alimentazione Sana alimentazione vuol dire non privazioni, diete, calcoli di macronutrienti Ma uno stile di vita sano Quindi vi faremo vedere anche come affronteremo dal punto di vista alimentare queste nostre avventure Io rido già perché da questo punto di vista veramente siamo gli antipodi Quindi lo scoprirete Lo scoprirete nei nostri viaggi e nelle nostre, magari faremo un po' di full day of eating Così vi faremo vedere le nostre grandi differenze anche dal punto di vista alimentare Diciamo che in tante cose siamo veramente il giorno alla notte Si Quindi banalmente l'inverno andremo a fare poi un paio di video sulla neve Un paio, perché un paio? Chi ha detto un paio? Anzi vedrete, vedrete Faremo dei video sulla neve e chiaramente ci sarà il video in cui io farò uno board E dall'altra parte c'è chiaramente una sciatrice Quindi i classici cugini che litigano, bisticciano sulla pista Perché ognuno ha le quali traiettorie Ognuno vuole andare in maniera differente rispetto all'altro E quindi anche da questo punto di vista Con questo stiamo anche anticipando e vi faremo vedere dei contenuti sportivi anche invernali In realtà diciamo che io nasco sciatrice ma sto imparando anche ad andare con la tavola L'ho contaminata No, non è che è perché io mi voglio mettere alla prova a abbassarmi No scherzo No, in realtà mi ispira un sacco perché mi sembra un sacco divertente la tavola Quindi vi faremo anche vedere proprio come ci sarà questo primo approccio alla tavola Bene, quindi non vi resta che iscrivervi al canale per restare sempre aggiornato Vi lasciamo qua sotto il link Quindi restate sempre aggiornati e stay fit Stay adventurous Ciao 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 a tutti Come va? Tutto bene? Fantastico Come va? Il volume Ciao a tutti Sì Che cazzo urli Ciao e vieni tanto è una prova devi farne 40 prova 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 1 2 3 prova manca l'umorismo comunque non aggiungo altro manca l'umorismo va bene faccio anche di qua